L'importante premessa che devo fare è che non esiste un unico metodo che consenta a tutti di estendere la propria voce piena verso l'acuto. Ognuno di noi ha difficoltà diverse e ognuno di noi trae beneficio da esercitazioni diverse costruite ad hoc su se stessi per cui come facciamo ad estendere la voce piena in acuto, a quale meccaniche facciamo riferimento. Dobbiamo andare a prendere in esame le forze trasversali alla lunghezza delle corde vocali. Tutte le fonazioni emesse con questa configurazione laringea hanno l'effetto timbrico di voce piena. Per ottenere il massimo dell'energia acustica da ogni punto della nostra voce l'assetto migliore dumping falsetti. I don't know what I give to touch your skin Grazie.